60 chilometri lungo il percorso della Cassia Vetus, attraverso 5 comuni, tra borghi medievale e pievi romaniche del Valdarno, tra le più belle della Toscana, la terza edizione del Cammino della Sette Ponti, presentato a Firenze nella sede della Presidenza della Regione Toscana, attraverserà rigorosamente a piedi dall'8 al 10 giugno i comuni di Reggello, Castelfranco, Pian Disco, Loro Ciuffenna, Terranova Bracciolini e Castiglion Fibocchi. Offre a chi ha voglia di fare un'esperienza diretta, di camminare con lentezza attraverso questo percorso lungo l'Arno, di risalire la corrente intercettando la nostra storia. Vi saranno in questa edizione abbinati degli eventi, tante sollecitazioni, nuda di competitivo, un'esperienza diretta di cammino come tante in Regione incominciamo ad averne a disposizione. L'iniziativa si inserisce, hanno detto i rappresentanti dei comuni, in un progetto di promozione del territorio che i cinque comuni eserciteranno in forma associata e offre l'opportunità di scoprire con lentezza le suggestioni della sponda destra dell'Arno, con 20 chilometri al giorno percorsi a piedi. Il cammino ha un grande fascino perché in questa epoca in cui si sta sempre tutti collegati con i telefonini, con i social, il cammino, il telefonino non ce l'abbiamo, insomma, si sta a chiacchierare con la persona che si è accanto, allora se si va un po' più veloci si parla con quelli più veloci, se si va un po' più lenti si parla. Il cammino è per tutti e questi 60 chilometri sono tutti in pianura, quindi davvero per tutti. La partecipazione al cammino della Sette Ponte è gratuita e ora si lavora per farlo diventare un itinerario fisso tra i percorsi turistici del Val d'Arno.